Partiamo con un unboxing a Tijuana Flight Unboxing in HD Il Vanko di Maggi sta chiamando Piquana nasce nel 1995, Piquana Flett l'ha fatto un ragazzo del college nel 1995, Brian Wheeler. Un sacco, guacca, tostata, è la madonna, troppo, pensavo più piccolo, 11 dollari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.